Nell'ambito della Sagra di San Giacomo di Romano Dezzelino, ogni anno raccontiamo un artista del territorio. Quest'anno in particolar modo abbiamo l'artista Nico Venzo. Mi piace più fare di ritratti dei bambini, che è forte, e di nudi femminili. Mi piace moltissimo la maternità, e ballerine. Sarà perché ho dei nipoti molto adatti, prima avevo un figlio che farebbe il ballerino. L'opera principale della mostra, quella che catalizza il visitatore al suo ingresso, è Madri Bosniache, un'opera del 1992, che è molto intensa dal punto di vista espressivo, e per questo noi l'abbiamo posizionata al centro. La nostra curatrice quest'anno, oltre ad aver curato molto, dal punto di vista innovativo, la mostra, e ha curato anche le pareti dal punto di vista artistico, con le sue grafiche d'arte.